In questo momento siamo qui al Spring Event Modern Leonard e devo dire che è la prima volta che partecipo a uno Spring Event e questo è inerente al mondo dei makers personalmente tenterò di inserire anche il mondo dei sense makers che significa unire al mondo dei makers quello dell'imprenditoria sociale quindi tentare di creare un impatto sociale non solo creatività ma anche creatività applicata all'innovazione sociale È un piacere di essere qui con la comunità di libri e di persone dai musei è bello di sapere che stanno aprire i loro spazi per l'inclusione di fab labs o maker spaces inside them We think that is fundamental for society and for cities that the museums and libraries start to play a different role and start to be an active element in the production of the city by the citizens, by the people It's been really interesting because in the morning you had really big projects with huge budgets and then in the afternoon it was scaled down a little bit with smaller more local projects and I think that might be more relevant to some of the librarians who are in the audience Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.